Studi clinici, sono due grandi, quindi io faccio una lezioncina sui trani, allungo un pochino quello che ha detto già Piero e aggiungo, prima che mi dimentichi, il compassionevole, non è facile, non è solo il clinico che deve dire sì, mi assumo questa responsabilità, i comitati etici sono rigidissimi, quindi non è facile avere un farmaco per uso compassionevole, non è assolutamente facile perché loro vogliono vedere delle evidenze e quando queste evidenze sono ancora molto preliminari pubblicate è veramente, veramente difficile, come diceva prima Alessandro. Quindi due grandi categorie, studi osservazionali, si osserva quindi l'andamento di una malattia, si vogliono identificare i fattori che ne possono modificare l'andamento e valutare l'impatto sulla qualità della vita, invece gli studi sperimentali sono quelli che forse a tutti noi più interessano rispondere alla domanda, questa nuova procedura è diagnostica o terapeutica, funziona? Lo studio clinico deve avere quattro caratteristiche importanti etico, deve migliorare e innovare, indipendente, non deve rispondere a interessi commerciali delle case farmaceutiche accademici o di carriera, deve solo rispondere agli interessi dei pazienti, trasparente, tutti i risultati della ricerca devono essere accessibili e pubblicati, pubblici e pubblicati e accessibili, approvato da un comitato etico, che è una parte abbastanza rognosa, e dal partecipante al TRAIA, cioè il comitato etico deve approvare lo studio, ma poi chi partecipa al TRAIA, esso stesso deve approvare lo studio, quindi deve essere adeguatamente informato, ed è importante che firmi in maniera consapevole il consenso informato. Inoltre per una sperimentazione clinica etica, non è il nostro caso, perché noi non ci confrontiamo con nessun'altra terapia, però in realtà il TRAIA deve prendere in esame una terapia che possa offrire delle possibilità almeno pari al trattamento standard, lo standard of care, e che ci sia una nuova, una regionevole aspettativa che qualcosa funzioni nel nuovo trattamento, e che comunque il disegno clinico, l'importanza di disegnare il disegno in maniera appropriata è strategica, se vogliamo arrivare a qualche conclusione, a qualche indicazione dal TRAIA, e vedremo anche un esempio di come sbagliare un disegno clinico porta poi al fallimento di un TRAIA anche su un farmaco che ha delle buone prospettive. Lo studio clinico appunto deve avere l'approvazione di un comitato etico. Adesso sono anche un po' cambiate le regole dei comitati etici per le sperimentazioni cliniche, quindi ci saranno non più il comitato etico dell'ospedale o chi non ce l'aveva, insomma adesso è tutto cambiato, sono comitati etici centralizzati, ma si devono anche attenere a delle regole. La Declarazione di Helsinki, cioè Principi etici per la ricerca medica, e questo è scritto anche nei protocolli. E la Convenzione di Oviedo, che praticamente allinea e certifica le regole di base, che possono essere anche uniformi, in tema proprio di consenso informato e libero. E poi Good Clinical Practice, tutti noi che facciamo i TRAIA sappiamo bene che dobbiamo rifare il suo certificato ogni volta che iniziano un TRAIA, perché ovviamente sono gli standard internazionali di etica e qualità scientifica per progettare, condurre, registrare e relazionare gli studi clinici, nonché ovviamente tutte le linee guida certificate a livello nazionale e internazionale. Le sperimentazioni cliniche possono essere non controllate, e quindi parliamo di farmaco, ma può essere qualsiasi intervento, viene assegnato a tutti i pazienti elegibili consecutivamente osservati. Non c'è quindi un confronto diretto fra un paziente che prende qualcosa e un altro paziente che non prende niente. E quindi questi sono valutati in base al decorso storico di malattie trattate in maniera standard, che dovrebbe essere ben definito, cioè la storia naturale. Oppure controllato non randomizzato. Cioè, anche qui, viene assegnato in maniera non randomizzata a pazienti consecutivi e si confrontano o con controlli paralleli, o con controlli storici, o con controlli da banche dati. E quello più importante, quello che ci interessa di più, e quello che dà più garanzie, sono le sperimentazioni controllate e randomizzate, randomized control trial. E quindi viene assegnato, come diceva, ha detto benissimo Piero, 50%, più o meno, insomma, dovrebbe essere un numero equilibrato fra il farmaco, l'intervento di cui vogliamo dimostrare una certa efficacia, e il 50% ha il gruppo di controllo, e il gruppo di controllo in genere è il placebo. Per noi è il placebo perché non esistono farmaci, quindi è contro il placebo, ma ci sono situazioni, per esempio in oncologia, in cui si può fare un farmaco contro l'altro. Però, ripeto, sempre che abbiano un'equivalenza, questo è un punto etico importante, almeno all'inizio devono essere più o meno equivalenti. L'assegnazione non è fatta da noi, ma è fatta da un sistema di sorteggio, diciamo, dico sorteggio, ma è un sistema ben codificato, insomma, con una tecnologia che non è prendi il pulsolotto da una parte e dall'altra. E poi ci sono gli studi di metanasi, cioè questi sono post-it-trial e confrontano tutti i risultati che sono venuti fuori da una serie di trial, dicono questo sì, questo va bene, questo forse è meglio per questa malattia e così via. Però, torniamo al randomized control trial, che è quello che è, diciamo, più importante per noi. E' importante che i partecipanti siano selezionati secondo rigidi criteri di inclusione ed esclusione e vengono in maniera casuale, appunto, assegnati al gruppo sperimentale o al gruppo di controllo. La randomizzazione, ho detto, non si fa col bussolotto, perché la randomizzazione deve distribuire in maniera uguale fra i due gruppi, percebo e controllo, tutte le possibili varianti o fattori prognostici che ne possano modificare il risultato. E se il trial, questa è una modalità di fare un trial, se il trial è condotto in maniera etica prima, corretta, includendo e scudendo correttamente i pazienti, includendo e scudendo correttamente gli end point, è la maniera più semplice e più precisa di arrivare a una differenza statisticamente significativa. E i trial seguono sempre studi preclinici. Abbiamo sentito oggi, quindi in vivo o in vitro, prima, e abbiamo tante possibilità, abbiamo sentito oggi, di fare questi studi anche con organoidi, di cose avanzatissime che fino a qualche anno fa non esistevano, o in vivo sugli animali. E queste sono le varie famose fasi dei trial, fasi 1, 2 e 3, che sono le principali. Poi la fase 4, diciamo, è una fase 4 del trial, non è proprio il Q del trial, perché vedremo dopo che cosa vuol dire. Quindi la fase 1 deve seguire una ricerca preclinica. che può, voglio dire, anche anni di lavoro. Se non c'è questa ricerca preclinica, il trial non si fa. L'obiettivo della fase 1 è testare la sicurezza e la tossicità dei farmaci sull'uomo. Non sono studi controllati, sono studi che inseriscono pochi individui, pochi, che possono essere o controlli sani, o anche pazienti che non hanno alternative terapeutiche e si offrono di farlo. E nella fase 1 si utilizzano delle dose crescenti per vedere l'eventuale comparsa di effetti collaterali. Quindi il goal è sicurezza, pochi individui. Trial di fase 2. Qua l'obiettivo è valutare l'attività del nuovo farmaco a differenti dosaggi e frequenze di somministrazione, fase 2A, e l'efficacia, fase 2B. Non sempre queste due fasi sono distinte, cioè ci sono solo dei trial che sono solo fase 2 e basta. Anche qui in un numero maggiore della fase 1, ma ancora limitato. Dico limitato, ma guardate quello che richiede il numero limitato per un trial normale. 20-200 individui. Noi 200 individui, se ci va bene, li reclutiamo nella fase 3. Quindi quello che diceva Alessandro è giustissimo. Non ha senso, e anche quello che diceva Piero, non ha senso fare gli studi con Piero, cominciare a fare delle cose di fretta, perché poi dopo ci giochiamo la possibilità di testare veramente i farmaci. E ovviamente durante questa fase possono comparire degli effetti collaterali che nella fase 1, vista il limitato numero di pazienti inclusi, non si erano visti. molte fasi 2 sono controllate verso plagioico. In realtà la fase 2 ottimale non dovrebbe essere controllata, ma semplicemente verificare appunto attività efficace su un numero di pazienti maggiori. Però molti di oggi sono doppio cieco. La fase 3 sono traia controllati e randomizzati su un numero molto più grande, 202.000, noi 2.000 non ci arriveremo mai neanche mettendo insieme tutti i pazienti in un unico pool. E però, quindi per le malattie rare, ovviamente ci sono le eccezioni. E cosa vogliamo ottenere con la fase 3? delle evidenze scientifiche che poi ci permetteranno di mettere il farmaco, poter consentire al farmaco la pratica per essere immesso sul mercato. E quindi, cosa vogliamo vedere? L'efficacia verso l'efficacia. Nella fase 4, invece, è la fase che si fa solo dopo l'emissione in commercio del nuovo farmaco. Quindi non è doppio cieco, non è randomizzato. Ed è, e non è lo studio post marketing per vedere su larga scala gli effetti collaterali. No, la fase 4, in realtà, è, voglio vedere, quanto questo, l'efficiveness, una parola, una scioglilingua, e cioè, quanto questi farmaci, uscendo fuori dal trial, e quindi non c'è il medico motivato, non c'è il paziente motivato, non ci sono, non sono esclusi i pazienti che potrebbero avere delle comorbidità che peggiorerebbero l'evoluzione, insomma, l'outcome. Quindi, la fase 4 è il real life. Quello che il farmaco, veramente, nella real life, riesce a ottenere. riesce a ottenere perché lo prende, lo prendono tutti, fra virgolette, non c'è questa, il medico non è più motivato che deve fare questo trial, insomma, nella vita quotidiana, come prendere un qualsiasi altro farmaco, e questo ci dà l'efficacia, 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 è nella realtà, nella real life. Il presupposto eticamente obbligatorio della randomizzazione è l'ipotesi che i due trattamenti a confronto, ripeto, verso il placebo non c'è questa cosa, però abbiano probabilità più o meno equivalenti, almeno non c'è il placebo, ma verso lo standard of care, perché altrimenti non è giusto dire no, cioè, diciamo, quando ci sono due farmaci, quando ci sono due farmaci che già sono efficaci, mettere uno in placebo, cioè uno, e quindi devono essere giusti, ecco, equamente distribuiti, e quindi il placebo è eticamente giustificato solo se non è disponibile alcuna terapia. E quindi il tra è un compromesso tra il paziente che dice sì, lo voglio fare, voglio fare anche la fase 1, voglio pure rischiare il rischio di avere eventi avversi. E quindi il compromesso fra il paziente e la comunità che ne beneficerà, poi la comunità dei pazienti che beneficerà di questi pazienti. Per questo è assolutamente importante questo benedetto consenso informato, che deve essere chiaro. purtroppo spesso spesso il testo dei consensi informati è prolisso pagina e pagina, termini tecnici, poco comprensibile, e quindi diciamo, sta a noi, perché poi ogni comitato etico lo vuole a suo modo, sta a noi cercare di spiegare la più correttamente possibile, in maniera più trasparente possibile, quello che andiamo a fare. Criteri di inclusione e esclusione è una cosa importantissima, dicevo. Dai tra vengono esclusi i pazienti che hanno delle comorbidità che si sa già che quel farmaco con quel farmaco vanno a interagire, questo anche per la sicurezza del paziente, ma i criteri di inclusione sono necessari per ottenere degli risultati e altrettanto necessari sono gli end point. Inutile fare degli end point complicatissimi, irraggiungibili, si distinguono fra validi, true, che sono quelli rilevanti per i pazienti, un miglioramento di un qualche aspetto clinico e quelli surrogati che sono praticamente i biomarcatori se ci sono che sono legati quindi comunque alla evoluzione della malattia quindi speriamo evoluzione favorevole. L'assegnazione dei partecipanti all'intervento tra può essere con disegno parallelo quindi sono due farmaci o due interventi differenti quindi due bracci differenti che differiscono rispetto al trattamento standard o il placebo il crossover è quello che accennava Piero però non sempre si fa il crossover nei trial può anche essere pericoloso diciamo che anche il paziente magari che prende il farmaco e sta bene poi capita il placebo un po' gli rode diciamo comunque il crossover vuol dire che un gruppo fa A e poi fa B e l'altro fa l'inverso prima B e poi A anche questa sequenza è randomizzata e poi c'è il trial con disegno fattoriale cioè due o più interventi sanitari che sempre vengono confrontati col placebo insieme quindi A da solo B da solo A più B e placebo quello più comune insomma è quello col disegno parallelo ovviamente e dicevo prima che il trial controllato randomizzato è il miglior modello di studio per valutare l'efficacia di un intervento sanitario di un farmaco è meno soggetto ad errori la randomizzazione porta anche perché la randomizzazione proprio perché bisogna evitare di mettere in un gruppo tutte le stesse variabili note o ignote e la cecità il doppio cieco un'altra cosa molto importante al paziente arriva una scatoletta o una puntura quello che sia esattamente uguale per il farmaco e per il placebo in genere è la farmacia che la riceve e poi la dà a noi ed è importante che quindi sia il paziente che il medico sia cieco e questo perché per eliminare dei bias che sono anche naturali da parte del medico il bias ottimistico che vuole vedere che il farmaco è efficace o da parte del paziente appunto che anche lui vuole vedere che il farmaco è efficace quindi la cecità è una cosa importantissima da considerare quindi i punti da considerare l'effetto dei trattamenti le misure che poi noi scegliamo assolute e relative le reazioni avverse questa è un'altra cosa importantissima e per questo è importante includere escludere in maniera corretta i pazienti nel TAIA ci possono essere cambiamenti durante il tempo le publication bias questo è un altro problema che ai pazienti non interessa e io neanche sinceramente ci avevo mai fatto caso adesso che mi so studiata questa cosa perché è ovvio che i trial negativi non si pubblicano anche perché uno la casa farmaceutica non non ha nessun interesse a farlo ma gli stessi giornali non hanno interesse a pubblicare un trial negativo e poi c'è anche in eccesso perché invece quelli positivi vengono ripubblicati tante volte secondo diverse cappelli titoli e cose del genere e poi quello che vi dicevo prima l'intraia è la pratica corrente cioè l'efficacia che network è invece l'effectiveness è does it work e questo è essenziale perché sì poi funziona il trial ma non nella real life nella pratica corrente e questo anche ho già detto Piero però e questo l'ho riportato proprio dal sito dell'AIFA dopo che abbiamo fatto tutta questa cosa e sono usciti fuori dei dati incoraggianti noi dobbiamo proporre il trial ha delle strutture ufficiali che ci ammettano la possibilità di mettere in commercio questo trial il primo è l'EMA l'agenzia europea per i medicinali quando l'EMA lascia la certificazione questa è valida in tutti i paesi dell'Europa dell'Unione europea l'EMA ha un comitato scientifico per i medicinali per l'uso umano questo comitato scientifico valuta tutto il dossier gigantesco che la casa farmaceutica gli deve portare e dopodiché rilascia un'autorizzazione all'immissione in commercio qua c'è scritto massimo 210 giorni non so se è proprio così dopo questa autorizzazione dell'immissione in commercio passa invece allo Stato quindi a noi all'AIFA e questo perché l'immissione in commercio è fatta per esempio in bugiardini in inglese molto importante invece trasferire quindi nella lingua dello Stato in maniera corretta tutte le informazioni perché uno qualunque persona deve leggersi il bugiardino se lo vuole vedere e poi soprattutto che tutte queste informazioni non solo da un punto di vista linguistico ma anche da un punto di vista tecnico scientifico siano trasferite in maniera corretta l'AIFA decide poi in quale classificazione gli diamo a sto farmaco cioè questo rispetto alla rispetto alla risposta del servizio sanitario nazionale se è completamente rimborsabile o se in fascia C pubblica questa cosa sulla gazzetta ufficiale comunque indipendentemente dalla classificazione la fascia C non è rimborsabile comunque il titolare dell'AIC cioè quello che ha avuto questa certificazione quindi la cassa farmaceutica può presentare all'AIFA la domanda di rimborsabilità o contattare sul prezzo e qua poi arrivano le note dolenti sui prezzi dei farmaci e adesso invece rapidamente l'ultima parte sui trial che stiamo facendo adesso e uno che coinvolge molti centri anche penso molti di voi è il farmaco chiamato REN001 100 mg al giorno c'è stato un trial a doppio cieco controllato di fase 2b per valutare l'efficacia e la sicurezza dopo 24 settimane di trattamento in pazienti con primary matocondri maiopati questo è chiuso perché è finito è finito il coso però evidentemente io penso siccome loro con la prima analisi stanno vedendo delle buone cose adesso c'è lo studio aperto sempre multicentrico per valutare sul lungo termine la sicurezza e la tollerabilità di questo farmaco questo era la prima cioè questo è il farmaco che è un agonista PPR Delta è molto importante perché regola produzione di energia è presente in molti tessuti è attivato dall'aumento della domanda energetica aumenta la trascrizione di geni importanti stimola la biogenesi muscolare aumenta l'ossidazione degli acidi grassi e la produzione energetica questo è il farmaco che si è concluso randomizzato dopo cieco 39 centri nel mondo 4 in Italia mutazioni del DNA mitocondriale e capace di fare autonomamente il test del cammino anche con ausilio l'endpoint primario era la variazione del 12-minute work test dopo 24 settimane e poi secondari erano invece la variazione della modified fatigue impact scale physical subscale e patient global impression of change e poi altri exploratory end point invece 002 che cosa vuole vedere innanzitutto ha incluso anche le mutazioni del dineral nucleare naif ripeto questo fa pensare che sia un buon farmaco insomma i primi dati che hanno siano favorevoli se no non avrebbero introdotto in questo open anche altri pazienti e quindi valutare a lungo termine due anni questo farmaco e questo è lo schema cioè questi sono quelli che vengono dal nostro studio dico nostro perché abbiamo partecipato anche noi poi ci sono quelli che invece vengono da uno studio precedente quello si chiama stride un precedente a cui penso che nessuno dei centri italiani abbia partecipato e poi questi naif cioè pazienti che non sono entrati nel trial perché avevano una mutazione nucleare adesso hanno una mutazione nucleare ovviamente devono essere schimati la mutazione deve essere certificata devono fare un po' di cose che gli altri non hanno fatto perché gli altri sono passati direttamente a questo secondo trial e invece è l'amipretide questo è un altro trial che ci ha visto coinvolti e che ci ha insegnato molte cose uno di quelli che ha fallito però è stato molto importante per insegnarci molte cose l'amipretide è molto importante è sulla membrana mitocondriale interna è molto importante per la stabilità della membrana per la morfologia delle creste per la funzionalità della catena respiratoria e tutti i processi dipendenti dalla cardiolipina e questo è il trial che è fallito doveva andare avanti 24 144 weeks e invece dopo 6 mesi si è stoppato perché in questa prima fase del trial sono stati inclusi tutti i pazienti con prime mamatocondriale disease quindi con diagnosi sia di genetica con mutazioni del dinamito mondiale e mutazioni con il dinamito nucleare e uffa e che cosa però quindi è fallito perché hanno visto che non c'era nessuna differenza né nel 6 minute walk test che era nel total fatigue score che era uno dei che erano gli obiettivi primari però poi che cosa hanno visto che si hanno suddiviso per sottogruppi nelle mutazioni del dna mitocondriale non succedeva niente esattamente sovrapponibile al placebo ma guardate la differenza nelle forme legate al dna nucleare e quindi adesso uffa lesson to learn loro stessi l'hanno detto ma è vero per tutti noi è importante conoscere meglio la storia naturale è importante gli end point più focalizzati è un problema ancora la mancanza di biomarcatori realistici e comunque loro concludono the need to critically consider particular genotypes in the design of future trials cioè non puoi miscolare le pelle con le mere ecco perché l'effetto può essere completamente diverso e e quindi adesso siamo partiti con trial speed 301 fase 3 e fase 3 randomizzato doppio cieco anche la dose di e l'amipetide è un po' aumentata e qui sono pazienti solo con geni del DNA nucleare vedete 90 soggetti la nella fase 3 parlavamo di 200 2000 e adesso rapidamente a bliva ma so quanto tempo ho finito vabbè arrivo sì allora vado sulle conclusioni a bliva è un altro trial che dovrà partire rapidamente loro sono partiti giustamente da quali sono i sintomi le manifestazioni cliniche che danno più fastidio ai pazienti e chronic fatigue sicuramente e muscle weakness e poi quindi hanno un po' disegnato il trial su queste 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 manifestazioni che più che danno più fastidio al paziente e anche qua la molecola che si chiama KL1333 ha avuto delle ha avuto degli studi preclinici aumenta il NAD e la biogenesi mitocondiali in fibrovasi i pazienti con melas studi clinici 1b non ci sono effetti collaterali in questo il trial che adesso cominceremo perché ancora non abbiamo cominciato e sono pazienti con mutazioni del dinamico ondiale soltanto che abbiano una malattia sistemica o una fatica cronica o una miopatia mitocondiale anche qui il goal è 120 180 però dovevamo ancora cominciare invece poi alla fine hanno deciso di fare proprio per evitare errori una prima fase con pochi pazienti una quarantina di pazienti wave 1 e adesso cominceremo tutti i siti a fare la seconda parte nella wave 2 a settembre settembre ottobre insomma questo lo salto perché poi ne accenderà anche Enrico dopo per i bambini e invece questo è l'ultimo l'ultimo che forse partirà già stiamo facendo i comitati etici e Carelli l'ha già avuto il comitato etico una molecola OMT28 che è un po' spariglia rispetto a tutte le altre importante per l'equilibrio NAD e NADH è importante per questo tutto in vita è stata dimostrata la riduzione della produzione di radicali liberi miglioramento dell'omeostasi del calcio aumenta la biogenesi dei mitocondri e io non so manco se ne posso parlare di questo perché c'è un confidential agreement e nei modelli animali c'è una riduzione della degenerazione riducono GDF 15 nella disfunzione mitocondriale riducono il danno dei possi nei cuori sempre negli animali riducono lo sviluppo lo sviluppo di fibrosi perché loro hanno studiato soprattutto heart e kidney cuore e rene riducono la mortalità sempre in questi animali e nell'uomo invece riducono ma non nelle malattie mitocondriali ma in altre malattie infiammatorie il biomarker dello sesso ossidativo biomarker dell'inflammation e adesso partirà questa fase nuova in cui si vogliono studiare GDF 15 ma anche biomarkatori dell'infiammazione e quindi saranno inclusi primary mitochondrial disorders con miopatia e o cardiomiopatia tutte le mutazioni dei tRNA sono inclusi ma anche single e multiple deletions no solo single perché multiple deletions sarebbero nucleare quindi solo mitochondrial dna poi mutation e single deletions purtroppo uno dei criteri di inclusione e questo è un po' in punto interrogativo che il GDF 15 deve essere sopra 1.200 inferiori a 10.000 e questo lo sappiamo insomma lo fa qualche volta si fa ma non in maniera sistematica e che cosa vogliono vedere vogliono la prima parte vedere come va la natural history ma ovviamente 12x è poco probabilmente lo espanderanno un po' di più ma soprattutto i biomarkatori si invaria è un approccio diverso e poi si fa il farmaco e questa è la slide conclusiva quindi sfide ed errori nella nei traia è ovvio malattie rari noi partiamo svantaggiati perché pochi pazienti fenotipicamente genotimicamente eterogene e se li si restringe per gruppi omogenei come siamo però cossette a fare se vogliamo vedere qualcosa i numeri sono piccoli poi le malattie multisistemiche quindi vari cofattori che possono influire sui risultati la fatica mitocondiale tutto ancora da finire la storia naturale abbiamo visto che uno delle lesson è forse non abbiamo una storia naturale precisa perché se noi andiamo a guardare i registi si importanti ma ogni registro ha la sua storia naturale diciamo la verità cioè noi abbiamo confrontato per esempio i nostri dati con la merfe con gli inglesi e non erano esattamente sovrapponibili è molto importante anche formulare la domanda giusta a cui si propone di rispondere e la scelta degli end points sono troppo complessi troppo difficili non si arriva al risultato e quanti e quali pazienti per ottenere risultati statisticamente significativi evitare i disegni troppo complessi purtroppo qua andiamo alle note dolenti per fare i tram ci vogliono soldi e risorse umane anche e poi i costi post marketing perché poi l'AIFA l'EMA dice si ok questo farmaco va bene l'AIFA dice ma vale la pena spendere tutti questi soldi i costi benefici e ovviamente la collaborazione tra clinici farmindusia associazioni pazienti questo dico clinici perché abbiamo già passato la fase preclinica grazie